Tre squadre in vetta alla classifica, punteggio pieno, tutte pugliesi. Parla in favore della nostra regione. Il girone H di Serie D dopo 180 minuti di campionato parla sicuramente in favore del Bitonto, che vince anche al debutto davanti al pubblico del Città degli Ulivi. Batte 2-0 la matricola campana Gladiator con una rete per tempo. L'ottimo Pia Rulli, 2001 di grandi prospettive, si procura intorno a quarto d'ora il rigore che Patierno trasforma magistralmente. Biason raddoppia in pieno recupero. Due su due dopo la vittoria all'esordio di Francavilla in Senni, il Bitonto. Insomma c'è. Noi vogliamo lanciare un messaggio a noi stessi. Con questi risultati soprattutto è un messaggio a noi che possiamo essere una squadra che può far bene. Quindi soprattutto una crescita in consapevolezza e una convinzione in quello che è la proposta che mettiamo la domenica. Questo ci deve servire. Degli altri dobbiamo pensare veramente zero in questo momento. C'è il Bitonto, ci sono però anche Fasano e Brindisi. Basta un gol ad entrambe per collezionare la seconda affermazione di fila. I biancazzurri di Giuseppe La Terza espugnano Nardò e vincono il derby giocato al Giovanni Paolo II con un gol di Serri in pieno recupero. Appena Coci si è arrivato sul fondo, ho visto che è partita un bel cross, mi sono stoccata, puntata su quella palla e l'ho incornata per il gol decisivo. Sono contentissimo. I messapici invece la spuntano Alfanozzi dell'incrocio ricco di fascino e tradizione con la nocerina, rete decisiva per il Brindisi di D'Ancora ad un quarto d'ora dal termine. In secondo tempo siamo entrati meglio. Abbiamo trovato la stoccata con Sassà D'Ancora, con una bella trama di gioco con Lombardo. Quindi siamo andati in gol e poi abbiamo gestito. Sono contento perché anche se non abbiamo fatto una buona gara sotto il profilo del gioco, però abbiamo portato a casa tre punti importanti contro una squadra che sicuramente darà filo da torcere a parecchie squadre. Prima vittoria in campionato per il Taranto. Una sola rete al Capozza la realizza Genchi che condanna alla sconfitta il Casarano. Primo successo pure per il Foggia. Finisce 2-0 allo Zaccheria, una partita molto complicata quella giocata contro l'Agropoli, sbloccata dai rossoneri soltanto nell'ultimo quarto d'ora d'Aia d'Arresta. Il raddoppio invece è opera di gentile allo scadere. Un solo punto infine per le due murgiane. Lo conquista il team Altamura che fa 0-0 in casa con la Gelbison. Il Gravina rimedia il primo dispiacere in questo campionato perdendo 1-0 a Marsi Covetere. Gol decisivo per la matricola Grumentum-Valdagri realizzato dall'ex potenza.